Se dovessi concludere la mia recensione direi in tre secondi che questa scarpa rappresenta l'interpretazione moderna di una scarpa tradizionale. Non mi ricordo chi fosse stato il primo a citare l'espressione copiare con orgoglio, so però che mio figlio utilizzando un semplice Apple Watch è riuscito a sfruttare i bigliettini digitali anche se poi sostanzialmente non li ha utilizzati, ma nella corsa il concetto di intersuola azotata è stata per prima utilizzata dalle Skecher Goran Razor 3 e poi successivamente dalle Brooks Hyperion Tempo, scarpe che secondo noi sono fondamentalmente il top di gamma per chi cerca una sensazione di contatto al terreno al tempo stesso una risposta elastica particolarmente efficace. In realtà per il Matusa dentro di noi sappiate che le Vomero 3 nel 2008 in effetti avevano già questo concetto di intersuola in eva azotata, ma concetto che all'epoca non prese piede, di conseguenza Nike lo sostituì con altre mescole che invece erano all'epoca più in voga rispetto a quelle che oggi ritornano sul mercato. Tuttavia per i pochi che hanno avuto la fortuna di utilizzare queste Razor 3 sappiano che invece le Hyperion Tempo sono fondamentalmente più spaziose nell'avampiede e di conseguenza sono più adatte a una miriade di podisti amatori che secondo me dovrebbero comprare questo modello anche perché sono davvero la scarpa dal miglior rapporto qualità-prezzo e che comunque pur essendo tradizionali hanno secondo me diverse innovazioni che possono essere sicuramente utili per i podisti amatori. E per capirlo come al solito veniamo alle specifiche. 213 grammi di peso, drop 8, 31 mm nel tallone, 23 mm nell'avampiede, scarpa fondamentalmente che nel piede non si sente particolarmente. La tomaia secondo l'azienda americana di Seattle è molto elastica. In realtà se la provate vedrete che sicuramente è traspirante ma al tempo stesso non è così elastica come altri modelli ma secondo noi dal punto di vista del podista amatore voluto e per chi vuole correre velocemente la tomaia è fantastica ed è comunque molto traspirante anche perché ci sono dei fori presenti su tutto l'avampiede e secondo noi, come ho già detto, la scarpa vi consente di avere una sensazione di contatto al terreno ma al tempo stesso uno spazio nell'avampiede particolarmente importante. Dal punto di vista dell'intersuola parliamo di intersuola DNA Flash intersuola che dal punto di vista intuitivo potrebbe essere davvero morbida e reattiva in realtà è sicuramente un'intersuola che vi consente di correre velocemente la morbidezza si sente soprattutto ad alte velocità ma rispetto ad altre mescole con eva azotata secondo me questa scarpa è più veloce, più reattiva ma forse un po' meno morbida. A livello di battistrada la suola ha una gomma particolarmente resistente ma sicuramente molto sottile suola che vi consentirà di correre e di avere un grip particolarmente importante se doveste correre su terreni sconnessi ma al tempo stesso, secondo me, questa scarpa funziona particolarmente bene in pista e per i lavori veloci applaudiamo l'azienda americana per aver realizzato una scarpa davvero eccellente che vi consentirà di correre velocemente ma anche e soprattutto se siete podisti, amatori, evoluti avete un peso ottimizzato per lunghi lenti grazie soprattutto al fatto che nella parte posteriore sul tallone avete una conchiglia particolarmente morbida ma al tempo stesso bloccata e rigida che vi consentirà ovviamente di non avere problemi nella parte finale dei lunghi per concludere il discorso relativo alla parte superiore sappiate che la linguetta è particolarmente morbida ma al tempo stesso davvero sottile quindi potrebbe non piacervi sappiate però che questa, come ho già detto, è l'interpretazione di una scarpa da gara e che sarebbe effervescente se vi iscriveste al canale anche perché nei prossimi giorni parleremo di parecchie recensioni e di scarpe che sicuramente non avete visto nel frattempo io mi bevo un goggio di agua anche perché la coca cola la lascio Andrea Sofientini se dovessi concludere la mia recensione direi in tre secondi che questa scarpa rappresenta l'interpretazione moderna di una scarpa tradizionale e il fatto che sia a contatto con il terreno che abbia un peso sostanzialmente limitato e che al tempo stesso faciliti al meglio le transizioni provatelo con un Fartlek Moneghetti vedrete che questa scarpa e io la consiglio assolutamente a tutti i podisti amatori e voluti questa scarpa vi darà fondamentalmente parecchie soddisfazioni mi è stato chiesto nei giorni scorsi su Instagram se vale la pena aspettare per la produzione del modello successivo ma il modello successivo come è stato evidenziato dalla presentazione di Bruxa ai negozi sarà solamente nel 2022 di conseguenza vi suggerisco metto qua sotto un link ai miei principali retailer vi suggerisco di comprare questo modello ma la recensione non si può concludere soltanto con la mia opinione tecnica fredda e basata sui soli numeri lascio quindi la parola da Andrea Sofientini che qualche giorno fa ha parlato di questa scarpa vediamo cosa ci dice non mi arrabbio quando parla male di me anche perché lo fa in maniera scherzosa ad ogni modo se questo video dovesse raggiungere le 5000 views ho promesso ad Andrea Sofientini che gli regalerò da Epirion Tempo 2 anche perché per aspettare le E3 bisogna davvero aspettare il 2022 nel frattempo voi stay strong keep running io vado a bermi un coffee ci vediamo alla prossima ciao Andrea buongiorno siamo finalmente giunti alla recensione del Hyperion Tempo di Brux devo soltanto chiederti se preferisci che utilizzi per gli appunti il quaderno nero o il quaderno rosso il death note che appunti? tanto ci avrei già scritti no? Andrea cosa ne pensi di queste scarpe? allora ti dico che è un ottimo scarpo per fare i medi è un'ottima alternativa alle solite scarpe che usiamo per fare i medi che non ti dirò quali sono perché sono sicuro che me la farei dopo questa domanda ti direi una scarpa ben riuscita secondo me ha qualche possibilità di miglioramento sicuramente però per come è uscita una gran scarpa e secondo te a chi sono adatte queste scarpe? sono scarpe per atleti relativamente leggeri atleti relativamente veloci ma anche no perché secondo me anche a 4.30 potrebbero dirla loro e per quale distanze le utilizzeresti? abbiamo delle domande preimpostate in effetti se io rispondo a quella domanda lì metti in crisi tutto il sistema ma le domande preimpostate si sono state chieste addirittura c'è gente che dice racconta di meno, intervistalo di meno fai più la recensione, fai meno la recensione perché non parli della calzata perché non parli di questo secondo me adesso abbiamo raggiunto un template abbastanza tra virgolette affidabile guarda le domande ho spinto io perché secondo me almeno riusciamo a fare sempre raccontare le caratteristiche della scarpa la storia dietro raccontata da Max la schippo anche io però no dai fondamentalmente ci sta se no sarebbe una roba piattissima che possiamo trovare su internet e la calzata la facciamo sempre facciamo l'unboxing la proviamo e diciamo sempre più o meno se non ci dimentichiamo come calza quindi anzi questa qua ha stesso numero qualcuno la potrebbe prendere di un numero più piccolo ma solamente se ci deve far legare secondo me aperto e chiuso per quali distanze le utilizzeresti? allora in allenamento direi qualsiasi distanza quindi dal medio sai che ti direi anche un medio maratona quindi 24-25 km a scendere e le utilizzerei anche sulle ripetute più brevi quindi anche sui 400 sarebbero top le utilizzeresti soltanto in pista oppure anche in strada ho visto che il battistrada è particolarmente interessante la utilizzerei ovunque guarda per quello non è un problema beh non su pista bianca ma perché è il problema della pista bianca per fare i lavori sempre il solito comunque se ti scivola il piede sei fritto quindi la utilizzerei su asfalto e su pista sicuramente su pista questa qua di Garbagnate è perfetta perché la pista è dura scarpa morbida direi perfetta mi hanno chiesto nei giorni scorsi dopo aver visto l'unboxing che differenze questa scarpa ha rispetto alle launch o le launch che invece avevamo recensito nel passato e che comunque sono in fase di declino allora intanto non ci entrano assolutamente niente una con l'altra se non per la marca comunque per me queste sono le Hyperion Tempo e le altre le launch quindi Max che fa l'americano inglesizzato la schiuma dell'intersuola è completamente diversa l'intersuola completamente diversa perché questo qua è nettamente più morbida e più reattiva la tomaia è diversa perché questa qua è molto più leggera e sembra traspirante e più racing cos'altro avevo detto che era completamente diverso la risposta col terreno perché questa qua è una scarpa comunque morbida con le di nuova generazione diciamo invece la launch era una scarpa abbastanza secca che io poi non trovavo neanche così tanto reattiva al contrario di questa e cosa ne dici in effetti del DNA Flash che è l'intersuola? sì sì è molto interessante è morbida io stavo diventando vecchio ma mi piacciono queste a prima mi piacevano davvero le scarpe dure adesso invece sto apprezzando tanto queste scarpe morbide reattive davvero reattive perché ai tempi mi ricordo col boost si diceva che era tanto reattivo invece io non trovavo questa grande reattività invece adesso trovo una scarpa che ti salva la gamba che secondo me è fondamentale sui lavori soprattutto per la maratona o comunque lavori lunghi per i dieci e mezzo maratoni secondo te Andrea che scarpe simili ci sono sul mercato? ecco allora simili no però diciamo che fanno lo stesso lavoro ti direi le Rincon o le Zoomfly di Nike in questo caso quelle due lì sono più votate nella corsa di avampiede questa qua lascia un pochino più libero però l'idea è la stessa comunque se so correre di avampiede riesco a sfruttarle meglio e ripeto mi salvano la gamba come le altre due forse di più la Rincon perché la Zoomfly 3 diventava un pochino due era un pochino pesante a fine allenamento e invece cos'hai ne dici delle Skechers Goran Razor 3 sono anche loro con un'intersuola azotata esatto loro sono molto simili però io Max e pochi altri abbiamo avuto la fortuna di provarle e si ci somigliano molto però ero un un paragone un po' attirato perché davvero in pochi le abbiamo provate speriamo di di poter collaborare con Skechers e poi magari anche di offrirvi la possibilità di comprare le scontate adesso si fa fatica a trovarle quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa? pregi ti dico battistrada super preciso intersuola super mi è piaciuta tanto anche la la tomaia è molto bella molto racing comunque leggera non so quanto veramente traspirante ma comunque leggera quindi non mi fa sudare il piede quindi sono contento sicuramente sia nell'intersuola sia nel battistrada sia nella tomaia che comunque sono super ci sono comunque dei miglioramentini da fare tipo la tomaia forse io l'azzarderei ancora un pochino più racing a questo punto ci metterei qualche millimetri in più di l'intersuola che mi piace molto e forse il battistrada a questo punto lo farei o più più racing ancora quindi meno meno intagliato oppure lo intaglierei ancora di più per usarlo davvero ovunque a questo punto potrei usare anche nelle gare in montagna e se ti dovessi dire che magari con qualche caffè riusciremo anche a comprare le Hyperion Elite 2 cosa ne dice? il problema sai qual è che i ragazzi ci offrono sempre il caffè ma dopo le scarpe te le tieni quasi tutte te Max quindi direi che nella prossima volta sai cosa fanno ci offrono il caffè dicono questo è per andare e questo è per Massimo non è politica ricorreta quello che stai dicendo perché sai che non è così però cosa ne pensi in effetti di queste Hyperion Elite 2 le due le dobbiamo provare le prime le avevamo fatto una scelta noi di redazione di non provarle vediamo adesso quanti caffè arrivano se arrivano e poi decideremo comunque sappiate che Max mi fa correre in pantaloni con le calze basta senza scarpe praticamente non mi dà più niente non si può avere tutto dalla vita grazie Andrea ci vediamo alla prossima ciao alla prossima ciao